Cari amici UFO Shooters, buongiorno a tutti! Questa è la Air Max Amps Crate versione light, light per leggera perché hanno tolto il bombolone in carbonio dove l'estetica è a fine a mezzogiorno, a mezzogiorno e un quarto è finito il senso estetico e hanno messo una bellissima bombola in Ergal, completa in questo caso di effetto camo e il regolato di pressione è incorporato nella bombola quindi un'arma molto più concettualmente più semplice di quelle con regolatore esterno, quindi abbiamo il manometro che ci segna la pressione bombola, il regolatore è dentro e già presettato per le potenze adeguate, nello caso specifico di questa qua è la versione light cioè L canna da 520 mm, un choked non strozzata quindi adatta agli slug, ha un caricatore da 16 colpi, per gli slug più pesanti c'è il caricatore single shot, come tutte le Air Max abbiamo la priorità o prerogativa di avere copricanna che può venire via e la canna risulta essere poi intercambiabile quindi questa stessa canna con due viti esce, entra la canna da 700 mm, mette il copricanna adatto e di fatto ha cambiato arma e potenza. A breve faremo dei test con i joule, li abbiamo già rilevati ma non li dichiariamo ancora ma sono consune a quello che dice la fabbrica e faremo anche delle prove di rosata a distanze lunghe, 25, 50 e 100. Ciao a tutti!